Quest'anno non abbiamo minimamente mai pensato di rigettare il progetto di bilancio dell'Italia. Lo ha dichiarato il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici, interpellato sulla manovra italiana nel corso della conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche autunnali dell'Europa. Dopo aver detto che non intendeva commentare sui conti pubblici, Moscovici ha però voluto affermare No, non ci sono due pesi e due misure sui conti dell'Italia in base al colore politico dei governi. Non si può paragonare il dibattito attuale, serio, allo scontro che c'era stato lo scorso anno con il passato governo, di cattivo auspicio per le relazioni con l'Italia che amiamo così tanto. Qui stiamo cercando degli aggiustamenti e delle spiegazioni che possono permettere di prendere delle decisioni, ma non ci sarà, ripeto, il rispengimento del bilancio né l'apertura di una procedura. Poi, dato l'elevato debito pubblico del paese, allentare la pressione sul risanamento dei conti sarebbe esattamente l'opposto di quel che va fatto in Italia, ha aggiunto Moscovici, ribadendo. Il mio messaggio al paese però non cambia. Dovrebbe affrontare innanzitutto le riforme strutturali che consentono di rafforzare i punti deboli, la competitività e il problema del rilancio della produttività. Queste sono le priorità che l'Italia deve affrontare.